Siamo tornati con le belle pagelle di Luca Toselli, lì il Juventus 1-1, un pareggio che ci fa un po' arrabbiare perché avremmo meritato di più, però se poi la palla non la butti dentro, lo sappiamo bene, la regola, la legge non scritta più vecchia da storia del calcio, le partite non le vinci, è lì assolutamente dove dobbiamo migliorare in assoluto più di tutti perché da quando abbiamo iniziato questa stagione i gol sono un po' pochini. Dobbiamo cercare di buttare dentro la palla con più frequenza. Tiago Motto a voto 6,5, peccato perché questo 6,5 poteva essere un voto ben più alto perché credo che la partita sia stata preparata molto bene, credo che sia stata una delle partite più convincenti e dove hai toccato con mano più idee da parte dell'allenatore. Il primo tempo è stato molto buono, particolarmente buono, lo concludi addirittura in svantaggio per una serie di eventi concatenati che ti hanno portato a quel risultato assolutamente bugiardo. Dico peccato perché quel 6,5 poteva essere di più perché non mi è piaciuta la gestione dei cambi. La Juventus dopo i cambi è veramente andata verso il basso, ha avuto un rendimento più basso. Come dicevo anche nel video questa mattina, ci sono delle problematiche legate alla costruzione della rosa in questo momento, agli indisponibili e alle scelte che devi fare per cercare di incastrare tante partite che devi portare dietro. Non è soltanto una questione della partita che stai giocando, ma anche di quelle che hai giocato e che giocherai. Devi cercare di incastrare, di mettere insieme tutto questo. E come anche questo dicevo nel video di stamattina, se dovessi scegliere oggi un vice Vlaovic, proverai UEA piuttosto che Ildis, che mi ha dato un po' dimostrazione di essere un po' troppo leggerino lì davanti nel ruolo di falso 9. E dopo l'inserimento di Bangula sembra confermare questa cosa, quasi come se Tiago Morta si fosse pentito di aver rimosso Vlaovic e abbia provato a fare una sorta di cambio per correggere l'errore. Anche Turam mi è sembrato un giocatore che stava bene fisicamente in quel momento e che poteva dare qualcosa in più alla Juve, avrei aspettato un pochettino a toglierlo, Cavale invece era munito e andava assolutamente sostituito. Di Gregorio voto 6 perché secondo me si poteva provare a fare qualcosa di più in occasione del gol di Calulu, dopo l'errore di Calulu, perché dopo ne parleremo, non significa che sia un errore di Di Gregorio, perché non lo è. La Juventus ha sbagliato tutta in occasione di quel gol, di quel contropiede che ha preso, però a me piacerebbe vedere quelle occasioni lì che sono le poche occasioni magari che il portiere della Juventus va a subire in una partita che si possa fare anche qualcosa in più. Io sono del partito in questo momento Perin, perché siccome Perin dà un po' più di sicurezza rispetto a Di Gregorio, però comprendo benissimo la scelta di far giocare Di Gregorio titolare, anche se ieri sera mi aspettavo Perin in Champions, sono sincero, capisco benissimo l'esigenza per cercare di creare delle gerarchie almeno in porta, anche se Tiago Motta ci ha dimostrato che in realtà le gerarchie lui in porta o come capitani la fascia è molto itinerante nel calcio di Tiago Motta, sono tutte cose che possono cambiare da un momento all'altro, però come la sensazione di avere un po' più di copertura, di avere un po' più di sicurezza in porta, non so se è soltanto una sensazione o se è davvero così, però voglio dirvelo perché è una cosa che onestamente penso. Juan Cabal voto 5 perché ha troppo, troppo, troppo subito, cioè veramente il duello è stato impari, Cabal ha sofferto troppo, addirittura ha dovuto tirare la maglia e prendersi un cartellino giallo perché proprio non riusciva a fermarlo, il suo adversario era un giocatore troppo, troppo impattante, oh, mica male, chissà che in chiave calcio-mercato non ci si possa fare un pensierino, Cabal ha fatto una fatica immonda, ha preso un cartellino giallo giusto perché in quell'occasione lo doveva fare per una partita complicata, cala di Cabal, quindi si prende voto 5. Caluru 5 e mezzo perché secondo me in occasione del gol la macro colpa del reparto difensivo è sua perché ha letto male quell'intervento e mi è venuta in mente un po' la stessa copertura mancata anche da Locatelli in occasione di quel passaggio filtrante contro Udinese nel secondo tempo dove poi Davis arriva alla conclusione, è la stessa cosa, uguale, quando andiamo a perdere l'equilibrio della squadra, quando subiamo una ripartenza e quando apriamo le maglie della difesa del centrocampo e quando non siamo più belli, compatti come al solito, noi cerchiamo quella mossa disperata, mi ricordo un po' una Bonucci move, che Bonucci cercava sempre di metterci il tacco dietro per andare ad aumentare il brume del corpo e non far passare il giocatore avversario, ma già due volte che passano con l'Udinese è stata una palla parata da Di Gregorio dopo una botta sicura dell'attaccante dei Friulani e invece ieri sera Davis e David non ha perdonato, non ha perdonato, ha trovato un po' più di angolo, è riuscito ad aprire, è riuscito a infilare Di Gregorio, però la dinamica se non la stessa è comunque molto molto simile e credo che quello di Calulu sia oggettivamente un errore, a maggior ragione perché l'altra volta sbaglia Locatelli che non deve nemmeno essere l'ultimo filtro, quindi dovrebbe esserci qualcuno dietro, se la sbagliano in pensore centrale credo che sia più grave e credo che questo sia un errore di Calulu. Gatti invece ha fatto una buona partita, una partita tra 6 e mezzo, standard alti, gli standard del Gatti della prima parte di stagione, spero che sia definitivamente finito il momento in cui Gatti non gioca perché Gatti deve giocare, stop, questo è quanto, Gatti e Calulu sono la coppia titolare della Juventus. Cambia su voto 7, mi è piaciuto molto, a sinistra si è un po' spento, devo dire la verità, però aveva anche da monitorare un po' la fase difensiva, non solo quella di spinta insieme a Consei Sao, Cambiaso mi è piaciuto tanto, il calcio di rigore che l'Eventus si va a conquistare, se lo conquista sì con Consei Sao però è tutta farina del sacco di Cambiaso che fa quella progressione campo aperto super emozionante, perché non c'è un altro modo di definirla, è una progressione super emozionante per un giocatore che è fondamentale per questa squadra. Voto 7. Voto 7 anche Locatelli. E qui vi voglio. Non so se questa è stata la migliore prestazione di Locatelli da quando vesta la maglia della Juventus, però credo che non sia un'eresia, una follia mettersi qui almeno a ragionarci, perché Locatelli ha fatto un partitone. La cosa che mi ha sorpreso davvero di Locatelli questa sera è avergli visto fare delle aperture, delle sventagliate, perché stasera sono tornate con prepotenza le aperture, le sventagliate della Juventus, i cambi di gioco, e le ha fatte, non mi ricordo se tutte, o comunque giù di lì, in una maniera meravigliosa. E' stato veramente molto, molto, molto bravo. Quindi complimenti a Locatelli, che solitamente per me è un giocatore molto ordinato quando gioca a palla bassa, ma è riuscito anche a giocare delle palle alte, dei cambi di campo, dei cambi di gioco, sui piedi degli avversari, dei compagni, sul petto dei compagni, eccetera, eccetera. Mi è piaciuto veramente tanto. Credo che sia stato il centrocampista migliore in campo per la Juve. Kefren Turam, sei e mezzo, mi è piaciuta l'energia e il dinamismo di questo calciatore, secondo me ne aveva ancora. Avrei aspettato sinceramente il cambio con McKennie, anche perché Turam mi sembra in netta crescita. Mi sembra un giocatore che sta crescendo tanto, un giocatore che sta trovando se stesso, sta trovando il suo ruolo, il suo posto in questa Juventus. Mi fa piacere rivederlo titolare. Credo che insieme a Locatelli possa formare quella cerniera, quella diga di centrocampo che cerca Tiago Motta per dare equilibrio alla sua fase difensiva e anche spinta con Turam alla sua fase offensiva, per un giocatore che mi sta convincendo. Giocatore che voglio vedere sempre più spesso. Cobb Mainers ha avuto sei e mezzo, perché è un centrocampista che ha un'intelligenza tattica, come ho detto anche nel video post partita e come ho ripetuto per tutta la partita in realtà, il live è fuori dal comune, perché Cobb Mainers è troppo intelligente, da troppo equilibrio a questa Juventus, da troppo pressing a questa Juventus, ha recuperato un sacco di palloni, è stato il primo giocatore che andava anche a pressare il portiero, a pressare il difensore avversario quando si leggeva quel minimo margine d'errore. Convergenza ai piedi necessaria, perché quando in fuorigioco è riuscito due volte su due a buttare dentro il pallone, tutte le volte che era in gioco invece è andato a fare il tiro al piccione, e quindi da Copb ci si attende qualcosa in più. Io torno a dire quello che ho detto anche con l'Udinese, condizioni fisiche in questo momento non perfette per dire così, ma condizioni fisiche decisamente da ritrovare, l'ho cercato di non esagerare, ma condizioni fisiche completamente da ritrovare, eppure le idee ci sono tutte, perché questo è un calciatore che vede meglio il gioco del calcio rispetto agli altri, e dà troppo di più alla squadra in fase di equilibrio, semplicemente. Giocatore meraviglioso, è un Cobb Mainers, e ogni tanto ho i brividi a pensare che cosa sarà questo giocatore quando avrà ritrovato anche la sua condizione fisica e quando riuscirà finalmente a prendersi effettivamente in mano le chiavi del centrocampo della Juventus, perché sono convinto che lo farà, perché ha tutte le caratteristiche e le caratteristiche regola per farlo. Con 6-0 voto 6, e qualcuno mi potrà dire che meritava anche qualcosa di più. Secondo me è andato in difficoltà tanto, perché lo raddoppiavano, lo triplicavano, hanno fatto veramente una gabbia per Con 6-0. E qualcuno potrebbe dire, sì, si è procurato rigore, sì, sì, è vero, assolutamente. È verissimo, quindi forse anche 6,5 si poteva dare. Però vedo che in questo momento le squadre sanno che Con 6-0 è il perno della Juventus, e allora quello che gli chiedo, perché credo veramente che Con 6-0 questa cosa la possa fare, perché è un giocatore intelligente, gli chiedo quando vede di non riuscire, quando vede che è troppa la roba, che troppi giocatori sopra di lui, di imparare a fidarsi degli altri. Perché oggi siamo molto palla Con 6-0, e Con 6-0 ce la risolve. Ok, va bene, ci sta, è un giocatore che ti toglie da quel piattume tattico che abbiamo visto tante volte in questa stagione, negli ultimi metri. Ok, ma quando sei raddoppiato, triplicato e non vai, devi fidarti dei tuoi compagni e fare in modo che se agli altri puoi fare la differenza. E sono convinto che questo giocatore, questo step di crescita, lo possa fare anche in tempi molto brevi, perché è un calciatore molto forte. Canon il 18-6,5. Mi è piaciuto molto, è stato il giocatore con i lampi, veramente, due o tre sgasati, interessanti due o tre giocate alla Ildis, anche quella in occasione per il secondo gol di Cobbmaner, si hanno un lato per fuorigioco, giocatona, anche quella lì di Ildis, che si è emosso nello spazio, tutti i giocatori della Juventus lo cercavano, gli davano fiducia. Queste sono le notti di Ildis, secondo me. Sono queste qui. Quando lo sposti, lo togli da quella parte in cui può partire guardandoli in campo, e quindi si mette spalla alla porta, fa molta fatica. E qui, ripeto, quello che ho detto nel video stamattina, prima di bocciare Ildis definitivamente come falso 9, mi piacerebbe vederlo titolare, almeno una volta, per capire effettivamente se lui quel ruolo lo può fare, oppure no, perché se no, semplicemente si passa a un altro, e quindi si passa a Timothy Weah, che mi sembra il giocatore che ha più confidenza, con il ruolo di punta, avendolo comunque anche già fatto, ma buona prestazione di Ildis. Non male nemmeno Vlaovic, devo dire la verità, se avesse segnato poi quel gol dove si è superato il portiere avversario, cioè veramente noi, contro i noi portieri, fanno delle parate che non stanno in cielo né in terra, Vlaovic stava già esultando giustamente, ha segnato un gol su rigore, quella giocata lì, quell'attacco a quel pallone lì è stato fortissimo, è stato meraviglioso, è stata una gran giocata di Vlaovic, che se non erro, ieri sera ha segnato il gol numero 50 con la maglia della Juventus, insomma, mica male, voto 6 e mezzo a un giocatore che in questa stagione non può farsi venire nemmeno il raffreddore, poveraccio. Weha voto 6, ma in realtà sulle sostituzioni, guardate, sulle sostituzioni vi dico, do 6 a tutti e tre i giocatori che sono entrati, perché oggettivamente la prestazione individuale dei calciatori non è stata di basso livello, però capite che se Weha prende 6, Savona prende 6, McKennie prende 6 e bene o male tutti i giocatori esclusi Kabbal e Kalulu erano sufficienti in campo o comunque più che sufficienti, significa che non sono riusciti a dare la stessa roba che davano quelli che sono usciti, perché per me Vlaovic ha dato più di quello che ha dato Weha, perché per me Turam ha dato più di quello che ha dato McKennie, e vabbè Kabbal no, dal punto di vista difensivo Savona è stato meglio rispetto a Kabbal, ma Savona è andato a destra mentre Kabbal giocava a sinistra, quindi poi è stato cambiato per cambiare il tipo di approccio che aveva la partita, quindi questo racconta molto semplicemente, molto banalmente a livello aritmerico, però aritmeritico proprio a livello grafico lo vedete, che i cambi hanno secondo me peggiorato la Juventus, poi è entrato Bangula all'ultimo secondo, da senza voto perché ha giocato troppo poco andando a togliere Ildis, andando a sostituire Ildis, che doveva sulla carta essere invece il sostituto di Vlaovic, cosa che non ha funzionato e quindi è stato buttato dentro Bangula, ma con scarse risultati perché a un certo punto mi sono detto a cavolo è vero che c'è Bangula, non me lo ricordavo neanche più, perché lì davanti facevamo veramente fatica ad andarci, non arrivava la palla e quando arrivava non riuscivamo a tenerla lì, in alto, non riuscivamo a tenere sul pallone, quindi queste sono le mie considerazioni e queste sono le mie pagelle, l'analisi delle mie pagelle di Lille-Juventus 1-1, fatemi sapere la vostra, qui sotto nei commenti ci sono tante cose di cui discutere e secondo me il tema principale, il focus principale torna a quella che è stata l'analisi di stamattina e cioè il vice Vlaovic o comunque quel giocatore che può giocare al posto di Vlaovic quando Dusan non c'è, non sta bene o semplicemente deve riposare qualche minuto.